Inizia oggi la rivoluzione nella raccolta dei rifiuti anche nel quartiere ad alta presenza cinese. Arriva il porta a porta al Macrolotto Zero, unica parte della città a utilizzare ancora i cassonetti stradali. Tempo una settimana e non li vedremo più con il rischio reale che a loro posto compaiano discariche e continuo abbandono di sacchi. Il passaggio dal metodo tradizionale a quello domiciliare è delicato ovunque, ma in questa difficile fetta di città è particolarmente critico per tutto ciò che ruota attorno alla scarsa integrazione della comunità cinese. Lingua, abitudini, legalità. Il degrado e la sporcizia sono già fuori dai limiti. Il timore dei pochi italiani che vivono in zona è che la situazione diventi insostenibile. Nonostante il Comune e SM abbiano messo in campo una task force per effettuare controlli, pulizia e campagna informativa ad hoc, anche in cinese. Il timore c'è perché, ripeto, basta guardare cosa c'è dietro i cassonetti. Oggi ci sono i cassonetti e tutto il sudice viene lasciato qui. Il nostro timore è che comunque queste zone continuino a essere individuate come discarica della città. Questo è quello che ci preoccupa seriamente. Ci auguriamo che comunque ci sia una sorveglianza assidua, frequente, ma soprattutto che vengano effettuati quei controlli che poi portano anche a degli sbocchi concreti, cioè delle multe che possano riportare la cittadinanza a rispettare quelle che sono le regole. L'introduzione del servizio nel Macrolotto Zero sarà fatta a tappe. Oggi è partito nella prima delle tre aree in cui è stato suddiviso il territorio, che conta 2.462 abitanti, 918 utenze domestiche e 243 non domestiche. Previste due fasce orarie e due ritiri differenziati all'interno di questa zona. Soltanto in via Marini, via Cavour, via Curtatone, via delle Segherie, via Filzi, via Pistoiese e via Luti l'esposizione dovrà avvenire tra le 19.30 alle 21 come nel centro storico. Nelle restanti vie, via Magellano, via Puccini, via Chiti, via Becaie, via Oberdan, via Borgioli, via Rota, via 9 Agosto, via Orti del Pero, via Respighi, invece, il servizio agli stessi orari della periferia e dunque i rifiuti dovranno essere esposti tra le 21 del giorno precedente e le 5 del giorno di raccolta.